Oggi siamo qui perché vi volevo regalare dei pacchi di espansione di Pokemon Online gioco di carte Il primo codice è di Detective Pikachu busta espansione da quattro carte Il secondo codice è Detective Pikachu busta espansione da quattro carte Il terzo codice è di Sole e luna guardiani nascenti Il quarto codice è fascicolo Charizard di espansione Detective Pikachu Il quinto codice è Detective Pikachu busta espansione da quattro carte Il sesto codice è Detective Pikachu busta espansione da quattro carte Il settimo e l'ultimo ragazzi Sole e luna invasione scarlatta Grazie e arrivederci alla prossima spero che ci sia stato d'aiuto